Serve davvero un numero tondo per alimentare la memoria? Probabilmente no. Il sessantesimo del Vaillant però fornisce un pretesto eccezionale per riflettere una volta in più sui tragici eventi del 1963, su tutto quello che è avvenuto dopo, su quello che verrà. E quindi nei nostri notiziari affronteremo una sorta di marcia di avvicinamento all'anniversario. Ogni giorno un punto di osservazione, un dettaglio, una storia. Un modo per rimarcare che di fronte al dolore si impone il silenzio ma per mettere le cose in prospettiva occorre parlare. Ancora oggi c'è chi crede che la diga sia crollata quando in realtà è una delle poche cose rimaste nel panorama di Longarone. Già nel 1973, a dieci anni dal disastro immane, l'Unità, il giornale di Tina Merlin, descriveva il paese appena ricostruito come qualcosa di quasi alieno rispetto al territorio circostante. Un'area un po' pretenziosa da piccola city, scrive l'inviato Mario Passi, grandi condomini addossati l'un l'altro, negozi lussuosi che si specchiano sull'asfalto ogni metro quadrato di terreno sapientemente edificato, uno spicchio di metropoli trapiantato a ridosso delle montagne nel respiro ampio della Valle del Piave. Passano dieci anni ancora e si ragiona sulla ricostruzione industriale. L'inviato è lo stesso e intervista un operaio sindacalista che dice miliardi ne sono arrivati e tanti. Le fabbriche attirarono gente dalla Valle Ertana, dall'Alpago, dalla Val Belluna, si istituirono servizi di pullman per i pendolari, tornarono molti emigrati, operai meridionali si trasferirono quassù. La crescita durò fino al 1974 quando finirono le egevolazioni previste dalla legge speciale per il Vaiont. Parecchie aziende chiusero i battenti, altre cominciarono a ridurre, a mettere i lavoratori in cassa integrazione. Nel 1993 il ricordo trova una nuova strada grazie al fortunato spettacolo di Marco Paolini, la memoria del Vaiont, che diventa un classico anche grazie a una diretta su Re2 nel 1997. Nel 2010 viene istituita la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nel 2013, l'anno del cinquantennale, si alza la polemica, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non è presente a Longarone, dove arriva invece il presidente del Senato e quindi seconda carica dello Stato, Pietro Grasso. Il successore di Napolitano, Sergio Mattarella, arriva nel bellunese nel 2019, anche per vicinanza alla popolazione ancora immersa nel post-Vaia. Lunedì invece arriverà per la seconda volta con il doppio appuntamento a Fortonia e sulla Diga.